Ma sì, direi che le cose stanno procedendo un po' da programma, le cose stanno andando bene, sia a livello organizzativo e anche a livello di programmazione, le squadre si stanno muovendo bene in campo, quindi insomma siamo soddisfatti di risultati raggiunti fino ad ora. La palestra qui, dirvi che i colori sono giallo-verdi è giusto, no? Avete avuto la palestra, quindi state muovendovi anche su questo, ci saranno nuovi lavori, mi dicevi. Ma allora diciamo questa, la palestra è stata ristrutturata e ci è stata data a maggio, quindi un grande lavoro da parte dell'amministrazione comunale qua di Susegana. Noi ci abbiamo messo del nostro, chiaramente perché la vogliamo rendere la nostra casa e quindi una casa accogliente, quindi abbiamo cercato di fare degli interventi perché le persone che frequentano la nostra palestra si sentono a casa loro e a loro agio, insomma. Presidente, hai voluto presentare ai soci e a chi di dovere questo report di sostenibilità, come dice il libro stampato? Noi è il terzo anno che presentiamo il report di sostenibilità perché vogliamo scrivere quello che facciamo, no? No, nel senso abbiamo progetti molto importanti che mirano alla crescita sicuramente delle nostre ragazze, dei nostri giovani e lo vogliamo fare in un contesto di sostenibilità. Questo è un modo che riteniamo molto importante per poterci confrontare anche con quelli che sono i nostri sostenitori, quindi sponsor, le amministrazioni comunali, con tutti i nostri stakeholder e quindi abbiamo deciso di fare questo investimento molto importante ma che riteniamo sia fondamentale per dare la società del futuro. È un progetto SOSUS, come si chiama? Vediamo tante ragazze in palestra, quindi diciamo che il movimento c'è. Ma il movimento c'è sicuramente, c'è tanta adesione, anche bambine piccole, bambini, insomma, quindi vediamo che il duro lavoro che stiamo cercando di mettere in piedi, insomma, sta dando sicuramente i loro risultati. È un lavoro che comunque non finisce mai, nel senso che per poterlo fare in maniera importante e adeguandoci a tutte quelle che sono le necessità del momento, sia a livello sociale ma poi anche a livello legislativo e quant'altro, richiede molta competenza. Quindi tanto lavoro ma ci crediamo in tutto questo e quindi vogliamo, come vi abbiamo detto, nel nostro bilancio continuare ad esserci. Ci sentiamo a fine anno per vedere fare il bilancio di quello che avete ottenuto e degli obiettivi centrati. Assolutamente sì, noi adesso abbiamo la seconda parte dell'anno, della nostra stagione, quindi vogliamo sicuramente fare il massimo per raccogliere tutti i frutti sotto tutti i punti di vista, sia sportivo ma anche educativo, comportamentale, che è il nostro motivo, diciamo, obiettivo, il nostro motivo di lavoro, insomma. Grazie ancora, grazie a voi.